Andiamo a commentare proprio la fase offensiva del Catania domani contro la Lazio di Edireia e aiutiamo i nostri telespettatori proprio con la nostra grafica e andiamo a vedere proprio questo schieramento del Catania e soprattutto quanto sarà importante questo signore qui chiamato Christian Jama che giocherà come ha detto bene Marco da interno di centrocampo ma sarà molto ma molto importante la sua posizione invece quando si allarga sull'esterno dove lui potrà puntare sia alla diagonale che andare uno contro uno contro l'Iksteiner per mettere palloni al centro perché ricordiamo la caratteristica fondamentale di Morimoto è aggredire il primo palo sui cross che arrivano proprio dal fondo quindi Morimoto sarà fondamentale per sfruttare questa caratteristica attenzione anche ai movimenti di Peppe Mascara che dall'esterno cercherà di accentrarsi per sfruttare l'altra perpendicolare sul secondo palo per affiancare Morimoto importantissimi saranno lo dobbiamo dire anche i movimenti verso il centro di Gomez che cercherà di tirarsi via Radu per favorire che cosa? gli inserimenti a destra di Ledesma che in quel caso può mettere palloni ancora importanti stavolta per l'altra diagonale di Morimoto invece verso sinistra sempre ad aggredire il primo palo quindi questa è una soluzione offensiva molto ma molto importante che poi porta anche il Catania ad avere una transizione sempre positiva con viaggianti su Brocchi e Ledesma su Matusalem se la Lazio dovesse ripartire palla al piede abbiamo anche soluzioni che riguardano la Lazio? sì abbiamo soluzioni che riguardano la Lazio ed è questo il tema offensivo che potrebbe venirsi a creare all'inizio del secondo tempo o a partita in corsa perché il Catania se dovesse avere un risultato positivo potrebbe anche far entrare Isco allora in quel caso sarà molto importante questa marcatura quasi a uomo che poi non lo è ma è sempre una zona un po' particolare di viaggianti su Hernanes che è l'uomo più pericoloso della Lazio ma nello stesso tempo sarà molto importante anche questa catena cioè Mariano Isco su Zarate con il raddoppio di Alvarez per cercare di limitare il talento argentino fa meno paura Mauri in questo caso sull'auto di sinistra anche se Potenza deve stare molto attento a un'altra caratteristica importante quello dell'aggressione dei corridoi di Mauri perché è bravissimo a giocare senza palla senti l'uomo più temibile della Lazio un nome? in questo momento attenzione a Flocari perché Flocari riesce a destabilizzare la difesa è vero che la difesa del Catania segue molto la linea del pallone come ormai conosciamo caro Umberto ma Flocari riesce a scambiarsi molto in perpendicolare la posizione con Hernanes grazie, grazie per questo contributo tecnico e tattico al touchscreen sul Lazio Catania